Oggi con Carlo Alberto, amico e avvocato commercialista, voglio affrontare un unico tema. Se fossi in Italia, come dovrei strutturarmi affinché io riesca a pagare meno tasse possibili? E nel caso un domani voglia fare rientro in Italia, io riesca a capire e a fare un confronto con la mia attuale situazione a Dubai. Praticamente in questo video mi faccio fare una consulenza e pianificazione fiscale, ipotizzandomi o rientro in Italia. Nel video ci saranno un sacco di spunti, strategie e strumenti che lo Stato italiano ti mette a disposizione per abbattere legalmente le imposte. Io vi lascio un indice in descrizione, ma in questo video il consiglio è di seguire tutto in ordine, perché ogni cosa è molto interconnessa. Detto questo, carta e penna e partiamo con i numeri. La stima per quest'anno è di fatturare circa 350.000 euro, come spese tra attrezzatura, collaboratori, viaggi, spese varie, circa 150.000 euro. Un margine di 200.000 euro. Però questo, essendo qui a Dubai, non vado a soppesare il mio stipendio, perché con quello che faccio qui il margine me lo porto in saccoccia mia e that's it. Quindi 200.000 euro ce li ho in tasca io alla fine di quest'anno ipoteticamente. In Italia è un po' diverso. Come funziona in Italia? Cosa dovrai fare? In Italia ci sono diverse forme giuridiche, come ben sai, come anche qui. Quindi c'è una ditta individuale, piuttosto che una società di persone e una società di capitali. Con un margine operativo lordo, diciamo in maniera volgare, con un utile, prima delle imposte di 200.000 euro, la ditta individuale è molto, molto, molto costosa. Si parla di una pressione fiscale del 50% sostanzialmente. Pensa che a 100.000 euro di utile è più alta del 50%, è il 60%, 61%. A 200.000 un po' si abbassa, ma siamo comunque sopra il 50%. Se uno fa una simulazione, fra imposte e contributi, perché poi uno dice no, ma i contributi ti ritornano, aspetta e spera. Però insomma, fra imposte e contributi, di 200.000 euro ti rimane sicuramente meno di 100.000 euro. Anche se sono 99, poi il 50% di pressione fiscale c'è. Quindi si cerca sempre, visto che comunque 200.000 euro è un buonissimo margine, di strutturarsi in società di capitali. Non solo assolvi al primo obiettivo, che è quello di ridurre il carico fiscale magari dal 60% al 35-40%, ma fai anche la separazione patrimoniale fra l'azienda e la persona. Tu prima hai parlato di costruire uno schema legale, uno schema legale al fine di ottimizzare il carico fiscale importante. Secondo obiettivo, la protezione che si ottiene con la separazione. Quindi, ottimizzo il carico fiscale sull'azienda, primo punto, ottimizzo il carico fiscale su di me, secondo punto perché ho separato, terzo punto, protezione patrimoniale. Quindi io come una società di capitali riesco a ottimizzare questo. Con un margine di 200.000 euro si può parlare di holding, si può non parlare di holding, perché si può parlare di società semplice. Questa è una domanda che volevo fare. Tutta questa roba dipende. Dipende da quanti soldi uno poi si vuole portare a casa. Perché se uno dice, no, io voglio prendermeli tutti, non ho interesse a reinvestirli, poi dipende dove uno investe, si può parlare per giorni. Allora magari in quel caso l'holding non conviene. L'holding conviene quando uno ha tanti utili e ha già un buon stipendio suo, non vuole più soldi di quelli, non ha senso pagare il 43% di imposte. Allora fa un holding così separa e reinveste più patrimonio. In una situazione del genere, se sei solo, la miglior cosa è avviare, diciamo così, la struttura sotto forma di società di capitali. Quella più sicura, quella anche più... Quindi una classica SRL. Una classica SRL, ordinaria, capitale sociale 10.000 euro, che vende servizi. Quindi a questo punto tu hai 200.000 euro di margine, come dico io, sul quale si può lavorare. Ok, quanti di questi soldi resteranno in azienda? Quanti di questi soldi io voglio prendermi? Devo decidere quanto voglio di netto al mese per capire quanto ci pago di imposte. Poi anche qui uno dice, con pianificazione fiscale o senza pianificazione fiscale? Sembra una domanda banale, però in realtà c'è in Italia questo luogo comune che fare pianificazione fiscale vuol dire fare delle cose sotto il Fuji, trucchetti. In realtà non è così, la pianificazione fiscale è una cosa normalissima. È usare gli strumenti che ti danno a disposizione. Sì, però non è che li incentivano così tanto, no? A parte alcuni, non è che ti vanno a dire, guarda che se fai così spieghi meno imposte. Non ti vanno a dire, cioè, mi dicono queste sono le imposte. Poi dopo tu, studiando le norme, cercando di incastrare diverse situazioni fra di loro, cerchi di trovare il giusto equilibrio. Che magari l'equilibrio che ho trovato io non è quello che troverai tu, perché dipende dai soldi che uno ha bisogno tutti i mesi, i soldi che uno vuole dedicare a determinate attività, se uno vuole investire più come privato, più come azienda. Sono veramente tante le sfaccettature e non esiste neanche una forma migliore. Cioè non è che è meglio investire come privato negli immobili piuttosto che farlo con l'azienda. Cioè dipende quali obiettivi uno vuole perseguire. E l'uno non esclude l'altro. Io ad esempio ho investimenti immobiliari e immobiliari sia come persona fisica che come azienda. Ho autovettura sia come persona fisica che come azienda. Benefit dall'azienda o contratti di locazione come privato. C'ho un po' di tutto io perché le testo tutte. Proviamo a rimanere sul mio caso perché altrimenti viene il mal di testa da tutte le cose che si possono o non possono fare. Nel tuo caso la domanda è quanto ti vuoi portare a casa e quanto vuoi lasciare in azienda. Io penso che se dovessi essere in Italia in tasca vorrei avere almeno 5.000 euro al mese di netto. Che possono arrivarmi anche tramite benefit. Esatto perché quando uno dice io vorrei 5.000 euro al mese di reddito o di potere d'acquisto? Potere d'acquisto. Perché penso che se fossi in Italia probabilmente le mie spese si abbasserebbero di molto. In questo momento le mie spese personali si attestano a circa 10.000 euro al mese. Che però alcune di queste spese potrei ipoteticamente imputare a un'eventuale azienda che vado ad aprire. Certo. Facciamo subito la distinzione. Abbiamo parlato di reddito e di potere d'acquisto. Che magari potrebbe essere confuso. Il reddito è quello sul quale noi ci paghiamo le imposte che tutti siamo tenuti a versare. In ossia con l'articolo 53.23 della Costituzione. Paghiamo le imposte sul reddito e le imposte sul reddito fuori da case del forfettario sono progressive. Più è alto il nostro reddito più io avrò lo scaglione più elevato. Sopra i 50.000 euro io scagliono il 43%. Quindi se io ho 50.000 euro di reddito mi prendo altri 10.000 euro di reddito sono tassati al 43%. Fuori dai casi del regime forfettario e fuori dai casi delle imposte sostitutive. Quindi ad esempio se c'è delle immobili in locazione. Però rimaniamo nell'azienda. Allora se io mi volessi prendere 5.000 euro netti al mese come magari amministratore della tua azienda. Cerco di essere abbastanza preciso ma non eccessivamente preciso perché deve essere una chiacchierata non di numeri. Il doppio di costo. Quindi su 60.000 euro all'anno che io vorrei avere netti. 130 ti costa. 130 e dove sono ripartiti questi? Metà IRPEF e metà gestione separata IMS. E quanto si paga di gestione separata IMS? Il 24% se sei socio lavoratore e il 33% se non sei socio lavoratore. Ma siccome tu sarai socio unico dovrai essere per forza anche socio lavoratore. Quindi vuol dire che si pagano anche i contributi di previdenza fissi. Che sono 4.000 euro l'anno più una percentuale sugli utili anche se non distribuiti. Su questo poi se ne può discutere. Quindi diciamo il 4.000 euro fissi ci sono da pagare. C'è modo di evitare questi? Sì c'è modo però attenzione se ti fa un compenso amministratore elevato ti costa 9 punti percentuali in più se non li versi. Quindi quel 9% in più magari ti costa di più dei 4.000 fissi. Quindi bisogna fare i conti. Bisogna fare i conti. Bisogna fare i conti. Però diciamo che caso ordinario tu sei iscritto come socio lavoratore. Quindi paghi 24% di gestione separata fino a un lordo di 115.000 euro circa. Dopo no. Però nel tuo caso le pagheresti tutti. Più l'IRPEF a scaglioni. Quindi su un ipotetico 120.000 euro lordi alla fine 60 netti ti restano. Questi 200.000 euro che io ho fatto di utile praticamente ne sono quasi già tutti bruciati. 120.000 ti vanno per prenderti i soldi ma te ne rimane 60 e 60 ti mandi tassa. Poi ti rimane 80.000 euro di utile che è tassato con IRS e IRAP al 27,5%. Diciamo 30. Quindi di questi 80.000 al 30% sono imposte della società. Mentre su 120.000 euro 60 erano il tuo netto e 60 erano imposte tue personali. E le imposte in questo caso le pago sempre io dal lordo e c'è anche una parte che devi pagare. No una parte a carico dell'azienda una parte a carico tuo però poi insomma. Sì alla fine è disposto lo stesso. Ma la resta mano a sinistra ma più si aumenta il compenso più si stabilizza verso il 43. Perché poi a un certo punto i contributi IMSS si fermano. E se io volessi evitare tutta questa strada e darmi un netto in tasca di pochissimo e pagarmi tutto il resto con benefit? Allora. È una cosa che vedi percorsa o percorribile? Allora il benefit non può sostituire il compenso. Ok. Quindi uno non può darsi welfare. Però ci sono delle misure entro le quali noi possiamo rimanere. Ok. Quando si parte con la pianificazione fiscale noi dobbiamo partire dalle basi no? La pianificazione fiscale è a step. Si parte dalle basi e si va sempre più in alto e si va anche a volte in largo verso soluzioni che possono essere anche un pochino più borderline. L'importante è non superare una linea di confine. C'è l'imprenditore che rischia di più con la pianificazione fiscale e quello che rischia di meno. Questo è inevitabile. Perché il concetto di rischio è insito nella natura imprenditoriale. Quindi come si rischia a livello proprio di rischio imprenditoriale con le scelte di investimento? Ci sono tanti imprenditori che rischiano anche con una pianificazione fiscale magari più aggressiva. Perché la pianificazione fiscale aggressiva non è di per sé illecita. Sono illeciti magari i comportamenti che vengono messi in essere se vanno fuori dai confini. Diciamo che ci sono alla base della pianificazione fiscale degli strumenti che non sono per niente aggressivi e sono talvolta anche incentivati come sono il sistema dei benefit. Quali ad esempio buoni pasto, buoni acquisto e welfare aziendale. E come funzionano? Diciamo questi tre livelli. Buoni pasto, buoni acquisto e welfare aziendale. Welfare aziendale mi sento di escluderlo per il socio unico, amministratore unico, a meno che non ci sia magari due amministratori, corpo dipendenti, allora lì si fa un regolamento welfare, allora lega un altro mondo. Cosa si intende per welfare aziendale? Il welfare aziendale sono tutti degli strumenti di sostegno al reddito del lavoro dipendente e assimilato che possono sostenere il reddito non solo del lavoratore ma anche della sua famiglia attraverso incentivi per scuole private, viaggi, spese sanitarie. E quelli sono completamente deducibili? Sono completamente deducibili, dipende dalla tipologia di spesa, alcune ha un limite, tipo le sanitarie hanno un limite, la previdenza ha un altro limite. Però diciamo che su questi ci si può lavorare molto e essendo costi per il lavoro dipendente assimilato alla fine sono deducibili. In alcuni casi fanno un reddito per il dipendente, in altri no, però sono un ottimo strumento per abbassare di molto. Però con socio unico non ha molto senso. Socio unico amministratore unico senza una forza lavoro no, è contestato, non te lo applicano. Quindi diciamo che cosa fa socio unico amministratore unico? Può utilizzare i buoni pasto, buoni acquisto, ovviamente in alcune soglie. Non posso darmi... Diciamo che in questa situazione il buono pasto rientra nelle spese di vitto alloggio, quindi 2% del fattorato anno. Cioè quello sono 7 mila euro. Sono 7 mila euro. Deducivi al 75%, quindi diventa l'uno e mezzo. Però comunque, aspetta, per l'azienda deducivi al 75%. Eh ma ho messo un soldato. Però per te è tutto potere d'acquisto. Tornando ai 200 mila ipotetici. Abbassi 7 mila sull'utile. Sì. E quindi risparmi il 30% di 7 mila. Però ipoteticamente te non ti prendi 7 mila al reddito, quindi risparmi 7 mila. Chiaro. Uno fa la somma algebrica, però comunque risparmi. Chiaro. Questi sono strumenti basi. Perché dici sono 2% perché è una norma di legge? È una norma. La norma ti dice che per le spese di vitto alloggio non si può superare il 2% del fatturato. Oltre a quello non è più deducibile. Ok. Per l'azienda. Guardandole a reddito, sono un risparmio dal punto di vista aziendale nel momento della tassazione. Potresti anche, ad esempio, mettere la tua compagna come amministratrice insieme a te se lavora e darlele per le giornate lavorative, ad esempio. Perché lei diventa un assimilato al lavoro dipendente e quindi non vale più il 2%, ma vale sulle giornate lavorative 8 euro al giorno. Quindi magari ti fa 250-300 giornate lavorative e porti a casa altri 3 mila euro. Se effettivamente ci lavora e non fate contratti fazzi. Chiaro. Perché ragazzi le simulazioni, se uno effettivamente dice ma mia compagna mi aiuta, mi fa le cose eccetera, tipo io succede questa cosa qua, allora dico ok la metto amministratore così magari se non posso andare in banca io va a lei, se non fa altre cose va a lei, mi aiuta al lavoro, almeno è inquadrata, gli faccio un compenso effettivo, cioè pago, allora in quel caso posso aggiungere altri benefit. Più persone ci sono in quel senso, intendevo. Chiaro. E questi sono i buoni passi. Poi ci sono i buoni acquisto che invece rientrano in un'altra categoria, rientrano nelle categorie, diciamo per noi, per l'amministratore unico eccetera, rientrano nelle spese di rappresentanza. Quindi la deducibilità è 1,5% del fatturato. Io ho questo 2% che posso sfruttare come buoni di vito alloggio. Ok, più il 5% di rappresentanza c'è in 3,5. Che già 3,5 e qui sui 350 mila euro di fatturato che parlavamo prima. Sono 12 mila euro, 11-12 mila euro. Che io posso direttamente, cioè tutti questi buoni poi... Diventano potere d'acquisto. E li posso utilizzare bene o male come voglio. Sì. Abbiamo avanzato le spese perché da 150 siamo arrivati a, facciamo conto tondo, 160. E quindi l'utile si è abbassato a 190. La mia richiesta però di potere d'acquisto si è abbassata dal posto che 60 è 50. Quindi adesso di utile, dato che mi do di stipendio 50 netti, 100 lordi per fare il conto tondo, è rimasto 90 mila euro di utile. Però c'è il 30% l'imposto sul reddito. E qui siamo alla base della pianificazione fiscale. Chiaro. Tornando a prima, buoni pasto, buoni acquisto sono cose che in Italia usano il 90% delle aziende. Cioè se non le usate... State buttando via soldi. State buttando via soldi. Ok, chiaro. Perché comunque se una spesa che io posso dedurre, il legislatore me lo consente, in un limite, sprutta lo sto limite. Chiaro. Cioè io non ti dico di usare buoni pasto, a Iosa, così a cavolo. Cioè io dico di usarle nel limite del 2% del fatturato. Cioè uno rientra in queste categorie. Qui abbiamo fatto... La base. 5% della pianificazione fiscale. Sì beh, abbiamo già risparmiato un po' di soldini. Già così abbiamo risparmiato un po'. Poi ora si può incominciare a introdurre strumenti un pochino più. Comunque mi viene mal di testa. Cioè l'altro giorno ho fatto lo stesso video. Attuale pianificazione a Dubai. Mamma mia, qua ti viene già il mal di testa per tutte le cose che devi implementare e gestire. Però vabbè, quello è un altro discorso. Vanno documentate qua. Sì sì, chiaro. Tipo cominciamo a documentare le trasferte dell'amministratore fuori comune. Vanno tutte documentate. Però quelle lì danno un importante vantaggio. Quindi questo è qualcosa che si può costruire un po' un po' un po'. Quindi abbiamo fatto la parte wealth, benefit chiamiamola. Ora passiamo sulla parte indennità e rimborsi. C'è l'indennità di trasferta. Italia estero cambia 44-77 euro. Che comunque al giorno non cumulabile. Cioè se esci dal comune, quindi una volta. E questi sono importanti perché se uno esce dieci volte dal comune per esigenze connesse all'amministrazione dell'azienda. Si fa, cioè 11 volte si fa 500 euro al mese di indennità. Che non è tassata né per la persona fisica ed è deducibile per l'azienda. Al cento per cento. Al cento per cento. Quindi se io inizio a viaggiare ogni giorno per 30 giorni posso avere 44 euro al giorno. Sì, te ti devi spostare dal luogo abituale di lavoro per esigenze aziendali. Cioè se il tuo luogo abituale di lavoro non è giustificato che non è il tuo luogo abituale non va bene a trasferta. Cioè io lavoro nel comune di Firenze, per esigenze di lavoro mi sposto nel comune di Prato, ho diritto al 44 euro. Se io ho anche un ufficio a Prato... Di solito come le provano queste persone? Io consiglio di tenere un diario dove tutti i giorni si scrive dove sono andato e il motivo. Io faccio così. Dove sono andato, motivo e magari scontrino X. Sì, se c'è scontrino tanto meglio. Guardando me come persona penso che su 30 giorni al mese 15 trasferte le faccio tranquillamente. Io sono sempre fuori, il mio luogo abituale è Lucca, io non ci sono mai perché esco però torno, esco, torno, esco, torno a Lucca. Anche tante trasferte estere che vanno a 77 euro al giorno. Ok. Quindi tu riesci a fare con 15 trasferte 750 euro al mese. Ok. Va bene? Che già abbassano ancora il mio... Cioè abbassano ancora... Vedi che quei 5.000... Facendo conto... Conto pari 1.000 di benefit. 1.000 di trasferte siamo già a 3.000, ok? E quindi abbiamo abbassato anche la mia richiesta, è chiaro. Poi dopo te c'è il personal brand. Quindi si potrebbe impostare un meccanismo di royalties per l'utilizzo dei diritti di immagini connessi alla tua persona. Il vantaggio è che non hanno l'Inps e hanno una deduzione fiscale. Te sei andato al 35, hai una deduzione fiscale ulteriore del 40%. Quindi che significa che se te ti prendi 10.000 euro di royalties, ovviamente vanno misurate, valutate. Ora vi faccio un esempio semplice. Quindi io registro, che cosa ne so, il mio sito, il mio logo, il mio brand, a mio nome. Sì, e le dai in uso alla società. Ok. Ti prendi 10.000 euro di royalties, ok? Facciamo un esempio. Che diventano spese aziendali. Sì, per l'azienda sono deducibili. Però su queste 10.000, qual è la cosa importante? Che se te vi rendevi 10.000 euro come amministratore, ti costava il 50%. Se te ti prendi 10.000 euro come royalties, ti costa molto meno. Le imposte si pagano su 6.000, perché il 40% under 35 è deduzione fiscale, perché il dirittoratore è agevolato. Quindi si pagano le imposte su 6.000. Mettiamo a caso il 35% di imposte su 6.000. Quindi paghi molto meno, 2.000 euro al posto di 5.000. Quindi c'è un altro risparmio. Le tue 5.000 euro al mese, noi potremmo costruirle con 1.000 euro di benefit, 1.000 euro di rimborsi, questi non sono tassati, 1.000 euro di royalties e queste sono tassate molto meno, 2.000 di compensa amministratore. Chiaro. Vedi come l'abbiamo costruito? Quindi questo 2.000 ti costa 2.000. Più o meno, sì. Questo ti costa, diciamo, 300 euro, siamo a 2.300. 2.300 per 12 mesi, ecco le imposte, come le abbiamo diminuite. Quanto fa 2.300 per 12 mesi? Fa 23, 25, 27. Siamo arrivati a 27.000, prima erano 60, abbiamo diminuito il carico fiscale di 33.000 euro. Abbiamo fatto un bel lavoro. E abbiamo abbassato anche... Ora promuovo il mio canale YouTube, così tutti venite a... Chiaro. E però abbiamo abbassato anche l'utile aziendale. Abbiamo abbassato anche l'utile aziendale. Quanto è il massimo di royalties che si possa imparare? Ma dipende, ma ha fatto una perizia, va valutato, così non ti lo saprei dire. In un'ottica prudenziale è un 3% del fatturato. Ok, quindi circa 10.000 euro. Sì, io t'avevo messo 12. Prudenziale, eh. Content creator può fare anche il 30% di royalties, eh. L'azienda ha la tua faccia. Quindi non è un ristorante nuovo oppure un'altra cosa. Quindi si può anche lavorare con numeri ben più alti. Si può lavorare con numeri più alti. Più alto è il numero, più alto è il rischio. Noi siamo qui, eravamo arrivati all'inizio con 200. Che io avevo chiamato il margine su cui lavorare. Esatto. Partiamo da 12.000 euro di benefit. Di benefit. Che abbassano l'utile a 188. 12.000 euro di trasferte. Che abbassano l'utile a 176. 12 di royalties nette. Quindi metti circa 16.000 di royalties lord. Che abbassano a 160. E poi compenso amministratore. Di tutto questo io ho già un tesoretto. 12, 12, 12. Ho già 36 in tasca. Che sono 3.000 euro al mese. Esatto. Per far tenere le trasferte e le indennità bisogna che ci sia un compenso che sia più alto di questa roba. Altrimenti in una contestazione ti dicono te ti stai dando un finto compenso. Ok. Quindi noi lo mettiamo e paghiamo le imposte. 60 di stipendio lordo che poi diventano 30 nel momento in cui Semplificato ragazzi. Semplificato. Ci sono rimasti 100.000 euro di utili. Ok. Su questi si pagano il 30% di imposte circa. Ires e Irap. E sono circa 30%. Circa 30% perché poi la base imponibile Irap è un po' diversa. Tipo le trasferte non sono deducibili. Quindi calcola circa il 30%. Mi rimangono in azienda 70.000 euro. Perciò io in questo momento dai 200.000 qui a Dubai prenderei in sacoccia mia in Italia avrei circa 66 e 70 di utili che però sono ancora nell'azienda. Però 70 più 66 fa 136 su 200 abbiamo abbassato la pressione fiscale. Sì. Abbiamo abbassato parecchio. Cosa fai con questi 70? Allora se tutti gli anni tu hai quest'utile qui io farei separazione patrimoniale. Idealmente io metterei una holding davanti all'operativa e tutti gli anni leverei i soldi dall'operativa e li manderei in una holding. Perché se questi 70 volessi mandarli a me dovrei pagare il 26%. Il 26%. 70 meno 26% sono circa... 18.200 euro. 18.200 euro. L'avevo fatto giusto. Se io volessi darmeli in dividendi arriverebbero a me in tasca tassati al 26% quindi dovrei toglierci 18.200 euro e mi arriverebbero in tasca 51,8 euro. E ora qui c'è una questione. L'Inps è extra minimale. C'è una diatriba aperta in Italia che l'Inps vuole i soldi anche su questi soldi qui di utile perché sei socio unico lavoratore. Io sono contrario perché secondo me non è giusto pagare l'Inps su soldi che non sono distribuiti. Magari sì su quelli distribuiti però questo è da vedere caso per caso, ok? Alla fine di tutto questo calcolo avrei 36 più 30 più 51,8 avrei in saccoccia 117.800 Qui a Dubai mi rimangono in tasca 200 in Italia me ne ribarrebbero 117,8 che comunque non è male. Quindi ricalcolando ovviamente sempre a spanne molto larghe poi uno deve andarsi con la calcolatrice a prendere tutti i numeri e fare i calcoli giusti però 200.000 euro di utili non avessimo fatto pianificazione fiscale e fossimo andati a pagare tutte le tasse avremmo avuto circa un 30% di tasse aziendali che sono 60.000 euro. Ci sarebbero rimasti di utili post tax 140.000 euro. Di questi 140.000 euro Questo è un po' meno perché conosce la distribuzione degli utili bisogna pagare l'imposto di bollo, registrare le cose sono altri 500 euro che vanno via. Cioè l'Italia è un paese di micron tasse che tocca anche in fondo. Facciamo il calcolo fatto apposta. 140.000 euro. Di questi 140.000 euro me li do come dividendi e ci pago il 26%. Il 26% sono 36.400 euro perciò 140.000 meno 36.400 rimangono 103.600 ai quali però dobbiamo togliere 4.000 euro perché comunque i contributi fissi più la questione IMSS come prima insomma mi rimangono in tasca 99.600 euro se non faccio pianificazione fiscale come al solito se facciamo la pianificazione fiscale di cui parlavamo prima sui 120 perché poi si può lavorare se lavoriamo bene dovrebbero rimanerci in tasca circa 120.000 euro con una pianificazione fiscale prudenziale abbiamo risparmiato il 20% di imposte super prudenziale quindi si può anche spingere un po' di più ok chiaro tu sai però che io ho l'ottica della persona che investe e accresce perciò io non sono la persona che poi questi 70.000 euro nel primo caso o questi 140.000 euro nel secondo caso se li distribuisce quindi in questo caso cosa mi consiglieresti di fare? Io in questo caso opterei per il terzo punto che se l'ha detto prima che è la protezione patrimoniale quindi separerei le attività di investimento da quelle operative quindi non investirei con la società operativa e quindi metterei prima dell'operativa una holding distribuirei le utili alla holding così pago solamente l'1,2% e non il 26% con i requisiti PECS un anno di detenzione riscrizione delle mobilizzazioni eccetera eccetera perché non è che uno dice ok faccio la holding così pago l'1,2% sì ci vuole poi il rispetto di determinati requisiti separerei con la distribuzione di utili il patrimonio dall'operativa e con la holding investirei perché investirei con la holding perché innanzitutto i soldi sono separati dall'operativa primo punto secondo perché investendo con le società soprattutto nell'azionariato diretto mercato europeo mercato statunitense si può usare la PECS e quindi l'1,2% sugli utili che prendiamo poi ci sono pro e contro sull'investimento la persona fisica la persona giuridica ma questo è un altro video quanto alzi i costi per gestire una holding cioè se una società normale ti costa X quanto ti costa l'aggiunta di una holding un pochino meno perché di solito la holding fa meno operazioni essendo completamente fuori quanto costa la gestione di una società di questo tipo una società di servizi come la tua su quel fatturato tariffario medio di un commercialista in Italia sulle 500 euro al mese 6.000 euro l'anno sulla holding un pochino meno perché non ha l'operatività quindi per gestire un'attività di questo tipo circa 10.000 euro l'anno ok chiaro perché poi c'è il deposito del bilancio sì sì dopo il deposito di due bilanci calcola 10.000 euro l'anno è gestibile insomma avrei pensato di più sinceramente se uno comincia a dire faccio e-commerce ho quattro conti correnti c'è altra roba si sale grazie mille quindi abbiamo visto che comunque abbiamo un buon 40% di tasse gestite così allora se riusciamo a tenere un'imposizione fiscale e contributiva fra il 35 e il 40% abbiamo ottenuto dei grandi risultati perché di norma è il 50-60 capito dottore la ringrazio dottore commercialista avvocato filosofo